Penso che Aaron è un giocatore che non ha niente da aggiungere, tale che fa giocare la squadra, che è capace di creare fluidità del gioco, speriamo che avremo modo di conoscerlo meglio. Facendo un passo indietro penso che Venezia è un punto di arrivo per tutti quanti da fuori e adesso quando questa realtà si sta confermando come tale, andando pure a giocare Coppa Italia, penso che dobbiamo fare di tutto, mantenerla tale, conoscendola da dentro penso che merita tutta quell'attenzione che si è creata in questi anni e cerchiamo, ripeto di nuovo, tramite Coppa Italia di fare un passo ulteriore per consolidare questa realtà. Brindisi è una squadra già classifica, fa vedere molto in alto grazie al proprio attacco, grazie al gioco del loro playmaker Dyson che è pericoloso in tutti i reparti, perciò la nostra difesa deve essere tale da dove partire, come ha detto Federico prima, completando la squadra e precauzionandosi dagli infortuni, dalle varie malattie che abbiamo avuto in passato, penso che possiamo, se andiamo a viso aperto, competere e non vedo ora che la partita di domani, certamente prima di Aaron e prima di Vitali, dopo il ritorno, Giacchietti non è ancora completamente recuperato, ma penso che, visto la squadra in questi ultimi due giorni, possiamo andare a viso aperto e competere. Grazie a tutti.